Kratos, un American Stafford Hamster di 10 mesi che si è distratto perché c'è un cane maschio che sta facendo il gioco ok, 10 mesi, cane temperamentoso, bambini guardatelo bene, ok, prima foto degli esercizi, è molto bravo American Stafford Hamster, eccolo qua, bene bravo, è il cane di Luca, votiamo per Kratos, bambini e adulti, alzate le valente ok, Luca, Luca, è il cane qua, Luca, è il cane, scusami